Bene, andiamo con la 26esima rivocazione storica a Cormons il 9 settembre Nel centro cittadino con gruppi storici nazionali ed internazionali Vi ricordiamo domenica 9 settembre 2012 alle ore 16 e 30 Benissimo, saluto la grandissima Caneparo, Lugignolo del Friuli Allora vi ricordo, domenica 9 settembre a Cormons, grande rivocazione storica